Se stai cercando il profumo per questa estate, che non conosce nessuno, che ti farà avere un sacco di complimenti e che dura un sacco di tempo sulla tua pelle, guarda questo video. Nel video di oggi vi farò la recensione di un profumo che a me ha lasciato veramente, veramente, è un profumo della casa Rasasi, la stessa che ha prodotto, infatti l'ho messo vicino, la stessa che ha prodotto Shura, che vi ho fatto vedere nel video precedente a questo. Due tipologie però di aromi completamente differenti, ma prima di farti la recensione ti invito a iscriverti a questo canale, a cliccare la campanellina sotto con scritto tutte le notifiche, è molto importante. Grazie. Allora, vi faccio vedere prima di tutto il package. Questa è la scatola nella quale arriva questo profumo, che però non ci interessa più di tanto, è molto molto normale, tranquilla, bianca. E invece questo è il profumo. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più di tutto quanto, non è in realtà la boccia, che sì, è carina, ha un bel vetro, bello spesso, ma la cosa più bella secondo me è proprio questo spray potentissimo, veramente spruzza un sacco di profumo e si vede che è di qualità. Come di consueto andiamo a vedere le note su Fragrantica. Allora, è un profumo che viene descritto come aromatico, floreale bianco, speziato fresco, speziato caldo, marino e legnoso. Se vedete qualche cambio di inquadratura particolare è perché il gatto mi apre continuamente la porta. La valutazione delle persone su Fragrantica.com è quasi tutti lo amano, tantissimi gli piace, però anche a qualcuno non piace. Per quanto riguarda la longevità del profumo, siamo su di lunga durata, quasi tutti, anche se ci sono molti pochi voti perché questo profumo non è molto conosciuto. Infatti non credo che ci sia una recensione in Italia. Io ho controllato ragazzi ma questa è l'unica recensione in Italia di questo profumo. E per quanto riguarda invece la scia che lascia, la maggior parte delle persone moderata e forte. Vi vado a descrivere le note del profumo che sono di testa, cardamomo, neroli, peperosa e lavanda. Le note di cuore invece sono note marine, fiore d'arancio e geranio. Le note di base invece sono ambra, paciuli, cedro e vaniglia. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Prima di tutto spruzziamolo. Allora, stavolta però non posso spruzzarlo sulla mano sinistra, lo spruzzerò sulla mano destra perché sulla mano sinistra c'è il dry down di questo profumo di circa quattro ore. Ok? Tre ore e mezza. E ancora qua. Lo spruzzo sulla mano destra. Allora, ragazzi, l'apertura di questo profumo è... a me piace tantissimo. È molto... allora, questo profumo ha una scala molto ben precisa, ovvero come apre non è come è alla fine. Ci sono tanti profumi che sono così, cioè nel senso che non hanno un'evoluzione molto marcata o comunque particolare. Questo profumo qui invece ha una grandissima e spettacolare evoluzione perché si parte con questi agrumi. Ma non sono agrumi così. Non è un profumo agrumato così. Sono fiori d'arancio. È il profumo dell'arancio. È il profumo dolce, inebriante del neroli e dell'arancio unito a questo cardamomo verde speziato che gli dà una spinta iniziale fantastica, super estiva. Si sentono già da subito le note acquatiche perché questo profumo è molto particolare perché ha questo floreale bianco unito a queste note acquatiche che però, appunto, dico, hanno un'evoluzione incredibile perché alla fine, dopo 40 minuti, anche un'ora che l'avete spruzzato, cominciate a percepire questo profumo come notturno. Non so come spiegare. Cioè, nel senso, è molto estivo. È molto fresco l'apertura. È molto coinvolgente. Ricorda, diciamo, una passeggiata in mezzo a questi fiori di neroli, questi fiori d'arancio, veramente con una giornata molto calda. Però, alla fine, verso la fine, ma in un ambiente serale, a lume di candela, mentre mangiamo fuori. È veramente fantastico. A me dà una sensazione di pulito, di... perché questo è un profumo che sa di fiori bianchi, di questo neroli, di questo arancio, di questo cardamomo. Molto, molto... leggiadri, leggeri, ma allo stesso tempo è molto presente questo profumo. Si lascia sentire, si fa... è affascinante. È molto coinvolgente. Questo è un profumo unisex, ok? Quindi ha questa sensualità femminile, ma anche un carattere maschile. Perché ha un... un carattere ben distinto. Un carattere maschile, ma in un contesto floreale femminile. E questo lo rende veramente un profumo completissimo. È... ragazzi, è buonissimo. A me piace veramente tantissimo. E la parte ancora meglio, quella che preferisco ancora di più, è il dry down. È il dry down perché esce fuori la vaniglia. E quindi si unisce questa nota leggermente marina, questa nota di neroli, che rimane di arancio, ok? Quindi questa nota di estate addolcita, e quindi diventa un po' più serale. E dato che è un profumo che ha delle performance molto buone, si va tranquillamente, cioè, ve lo mettete il pomeriggio, ci arrivate alla sera, e ancora si sente molto bene, è un profumo che vi accompagna nella vostra giornata. Quindi è veramente completo. Un profumo completo. È un profumo un po' come tutti i profumi di... estivi e di fiori bianchi, floreale, che sa un pochino di bagnoschiuma, sapone, però nel senso non brutto della parola, ma nel senso spettacolare della parola. Cioè nel senso... immaginate un sapone profumatissimo, che però ha un'evoluzione, che ha un concetto, che ha una spina dorsale. Questo secondo me è un profumo veramente incredibile. Per l'estate è, secondo me, da avere. Ragazzi, questo è un profumo da avere. L'apertura è fortissima. Si sente tanto... Torno sull'apertura perché... Ci tengo a dire questa cosa. Inizialmente, quando l'ho sentito, l'ho spruzzato, ha una concentrazione di aromi molto elevata. E quindi è molto forte all'inizio, ok? Questo odore che sentite è fortissimo. E quindi all'inizio potrebbe risultare proprio un po' stile... saponetta, ok? Un po' stile proprio sapone, quando vi sciacquate la faccia, ok? Quel sapore forte di sapone. Svanisce immediatamente. Probabilmente è un effetto causato da quest'alta concentrazione di oli e questo alcol che si sente comunque che dà questo effetto. Ma svanisce subito. E quello che rimane sulla pelle è questo... Si vede anche un po'... È molto pieno di oli. Cioè, non so se riesco a farvelo vedere, ma io ho la mano un pochino lucida, perché ci sono tanti oli. È veramente ricco. Un sapore, un profumo ricco. E quest'ambra, e questa vaniglia che esce sul fondo è fantastica. Perché rende questo profumo un po' stile acqua di Gio Profumo. Cioè nel senso... Senza l'incenso però, ok? Quindi lo rende un pochino affascinante. Per la sera, adatto sia al giorno che alla sera. Allora, non voglio girarci troppo intorno in descrizioni particolari. Questo è un profumo che è ottimo per ricevere complimenti. È ottimo per fare bella figura. È ottimo da indossare in qualsiasi situazione. È un profumo adatto all'estate, alla sera e al giorno. Dura tantissimo e ha un costo anche molto buono, perché costa per 100 ml 45 euro circa, ok? Sinceramente, ragazzi, è un profumo che io vi consiglio di acquistare se volete un profumo per tutta l'estate. Uno solo. Questo profumo qui. Volete un profumo da aggiungere alla vostra collezione che sia differente. Perché? Perché è un profumo gioioso. attraente, però molto fine, molto delicato, presente, ma delicato. Non è un profumo forte, ok? Non è un profumo che può dar fastidio. Questo è un profumo che piace. Piace sicuramente. E poi se avete questa passione come me per l'arancio e per il neroli, unito a questo cardamomo e a questo leggero profumo di fluido, ok? Questo profumo un po' marino che ricorda appunto proprio l'estate, ragazzi. Questo profumo mi fa venire voglia di sole. È buonissimo. Boom, boom. Mi fermo qui, mi fermo qui. Spero di aver dato l'idea. Quindi non riesco a fare un esempio figurato questa volta di questo profumo. è una... ho voluto fare più una recensione di quello che provo, ok? Quando lo sento, quando lo annuso. Quello che provo io personalmente. Adoro questo profumo. Veramente, è buonissimo. Mi è piaciuto dal primo spruzzo e mi piace veramente. Sono orgoglioso quando lo porto. Non vedo l'ora che qualcuno lo senti. Perché sono sicuro che inebrierà lui o lei quanto inebri a me. Questo è tutto quello che avevo da dirvi. Spero che vi sia utile, che vi sia stata utile questa recensione. Ragazzi, vi prego di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se siete arrivati fino a qui lasciate un commento con scritto se avete provato questo profumo, se anche a voi piace il Neroli e se avrete voglia di provarlo. Ok? Al prossimo video.